Ehi, chi è? Ma è la Giada? Dai! È quella che ti piace, eh! Coraggio, rispondi! Pronto? Tanti auguri! Grazie mille, ragazzi! Dove lo stai passando il giorno del tuo compleanno? Sono in piscina qua, con Jack e David. No! Ma veramente? Eh già! Ma non è che possiamo venire su anche noi? Ok, va bene, vi aspettiamo. Perfetto, partiamo subito e portiamo su un po' gli amici. Ok, ciao! Ciao! Sei contento? Se sa! Ma tra quanto arrivano? Boh, la Giada aveva detto che partivano subito. Questo vuol dire che arriveranno tra dieci minuti, non possono trovarci in queste condizioni. E quindi? Cosa facciamo? Andrea, coraggio, provate! Jack, Jack, tutto bene? Jack? Sì, tutto a posto, ma dobbiamo sistemarci. Ok, tenete il cronometro. Pronti? Via! Ma come si sta? Ma come ti vesti? Ma non dovevamo andare in piscina. Sì, ma dobbiamo far bella figura se vogliamo fare colpo sulle ragazze. Ma almeno hai una maglietta? Eh no, mia mamma mi ha messo la maglietta di mia sorella. Ma come sei messo? Ma ragazzi, quanto tempo abbiamo? Due minuti, coraggio, trasformiamolo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Direi di sì. Manca solo una cosa. Cosa? Anzi, voglio essere sicuri. Anzi, voglio essere sicuri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.